Ciao a tutti e a tutte, ecco a voi una nuova puntata di Madshow. Oggi vi parlerò del libro Rewire di Richard O'Connor. Rewire parla del perché a volte finiamo per avere dei comportamenti autodistruttivi e di come superarli. È un libro che scava nell'attività del cervello che è presente dietro le dipendenze ed evidenzia le strategie per rivalutare se stessi in modo da ottenere un migliore autocontrollo sulle proprie cattive abitudini. Ci siamo passati tutti. Fai qualcosa in maniera quasi inconscia e poi capisci quanto era stupida e vorresti tornare indietro. A volte non causa danni come un errore di spelling ma altre volte ha delle gravi conseguenze come fumare una sigaretta giusto per onorare i vecchi tempi. Questo può portare ad una catena di comportamenti distruttivi non solo più sigarette ma anche rabbia, odio verso se stessi e un senso di colpa. La verità è che questi problemi sono comuni a tutti noi, anzi fanno parte di ciò che ci rende umani. In Rewire Richard O'Connor spiega i motivi per i quali facciamo questi errori e le connessioni che avvengono nei nostri cervelli. Connessioni che fanno in modo che non solo li compiamo ma li compiamo anche spesso. Per fortuna ora scoprirai come è possibile ristrutturare i nostri cervelli, modificare le nostre abitudini se solo scegliamo di essere più sani e felici. In questo video imparerai perché facciamo cose di cui poi ci pentiamo, perché tendiamo a incolpare i nostri difetti dicendo che noi siamo semplicemente umani e come superare la dipendenza. Il punto è che abbiamo due io che comandano le nostre azioni e che possiamo imparare a controllarli. Ecco un'esperienza che sicuramente ti è conosciuta. Hai davanti due scelte, sai qual è quella giusta ma scegli quella sbagliata. Perché lo facciamo? È perché abbiamo davvero due identità, una conscia e un'automatica. Entrambe influenzano le nostre decisioni. L'identità automatica agisce senza il nostro controllo, almeno quello diretto, è ciò che ti influenza quando ti mangi un intero pacchetto di patatine mentre guardi la tv. L'identità conscia usa invece il pensiero razionale e il ragionamento. Quando decidi di provare un nuovo piatto per la prima volta, è l'identità conscia che sta agendo. Di solito quando fai qualcosa di cui ti penti è perché agisce il tuo io automatico e quello conscio non sta proprio considerando le conseguenze. Mangi quelle patatine senza pensarci. Quindi, se vuoi superare qualsiasi cattivo comportamento, devi allenare il tuo io automatico a smettere di peggiorare le cose. Rafforzare il tuo io conscio ad essere più presente è utile, ma educare il tuo io automatico è più efficace. Il cervello può cambiare anche fisicamente. Puoi decidere i modi in cui il tuo cervello si sviluppa e come condizionare il tuo comportamento. Il nostro cervello crea costantemente nuove cellule e nuovi collegamenti fra di loro. Infatti, è stato scoperto, è stato dimostrato che l'apprendimento causa la crescita di nuove cellule. Il nostro comportamento influenza la crescita delle cellule del cervello e quindi la sua funzionalità. Quando fai ripetutamente un'azione, le tue cellule nervose creano sempre più connessioni tra di loro. Ad esempio, andare in palestra, neuroconnessione A, si collegherà a restare in palestra fino a quando finisce l'allenamento, neuroconnessione B. Continuando sempre così, questa diventerà un'abitudine. Le neuroconnessioni A e B saranno sempre più collegate. Quindi, sviluppando buone abitudini, rimpiazziamo le cattive abitudini. Devi cambiare le tue abitudini automatiche da negative a positive. Non è sempre facile cancellare le cattive abitudini nel nostro sistema automatico. Il nostro io automatico ha molte abitudini, alcune che ci fanno bene e altre male. Le abitudini si creano quando i modelli ripetuti di comportamenti diventano normali e formano nuovi percorsi nel cervello. Impariamo le nostre buone e cattive abitudini in maniera inconscia. Una cattiva abitudine potrebbe essere guardare la tv e mangiare le patatine dopo il lavoro invece di andare in palestra. Una buona abitudine potrebbe essere lavarti i denti. Alcune abitudini, come il fumo, sono totalmente negative. Altre volte, però, le abitudini che pensiamo siano buone sono in realtà distruttive. Avere dei pregiudizi, per esempio, porta ad avere delle cattive abitudini con l'inganno. Ciò influenza il modo in cui ci vediamo e percepiamo il mondo. Pensiamo di essere responsabili delle nostre qualità, ma incolpiamo il mondo esterno per i nostri difetti. Ad esempio, immagina un uomo che guarda in maniera ineducata tutte le donne che incontra. Potrebbe giustificare il proprio comportamento dicendo «Sono solo un uomo e è nella mia natura». Questo potrebbe far sembrare che non sia colpa sua. Ma se si comporta bene al lavoro, penserà che sia grazie alla sua dedizione e alla sua perseveranza, non perché è fortunato di trovarsi in un ambiente di lavoro che lo supporta in un'azienda in crescita, per esempio. È interessante notare che le persone più felici e sicure di sé hanno la convinzione di essersi guadagnati la propria felicità e sicurezza. Questo è ottimo e allo stesso tempo può anche essere dannoso, perché esiste il rischio di distorcere la realtà. Se qualcuno diventa troppo sicuro delle proprie capacità, potrebbe smettere di tentare, smettere di migliorarsi. Tendiamo ad ignorare qualsiasi cosa vada contro le nostre convinzioni. Le nostre convinzioni si rafforzano da sole. Se senti dire che una persona non è intelligente prima di incontrarla, è molto probabile che tu la percepisca così quando la incontrerai realmente. L'opposto potrebbe verificarsi se la persona ti viene presentata come un professore. Questo tipo di pregiudizi agisce inconsciamente, quindi di solito non viene corretto dall'io conscio. Al contrario, facciamo gli stessi errori senza aver scelto di farli. Le emozioni represse ci fanno per esempio diventare autodistruttivi. Sai che una teiera deve far fuoriuscire il vapore, giusto? Ecco, le situazioni, le emozioni funzionano nello stesso modo. Anche loro sono reazioni chimiche, si accumulano e hanno dei punti di rottura. Le emozioni negative, come la paura, la rabbia e la colpa, possono farci cadere in comportamenti autodistruttivi. Quando cerchiamo di reprimere queste emozioni, esse troveranno il modo di far uscire in un altro modo. Le emozioni sono semplici reazioni alle cose, come ritirare la mano è una reazione al tocco di un fornello caldo. Le emozioni quindi non possono essere sbagliate, dato che non sono basate sulla razionalità. Tuttavia, a volte pensiamo che siano sbagliate, cosa che ci causa più senso di colpa, rabbia o frustrazione. Pensare che le tue emozioni siano sbagliate può causare comportamenti autodistruttivi. Il comportamento autodistruttivo è un risultato del fatto che le nostre due menti non comunicano fra di loro. Le nostre identità conscia e automatica a volte ci danno dei consigli contrastanti che possono causarci non pochi problemi. A volte l'identità conscia sa che un'azione è sbagliata, ma l'automatica la fa lo stesso. Questo non è sempre negativo. La rabbia, per esempio, può essere una cosa positiva se stai proteggendo te stesso o una persona cara. Può darti coraggio. Se hai troppa rabbia repressa, però, puoi sottovalutare i rischi o non considerare i pericoli. Questo potrebbe portarti a prendere delle decisioni affrettate. Se sei arrabbiato sul lavoro, per esempio, potresti scrivere una mail senza pensare. Tuttavia, se qualcuno entra in casa tua, la rabbia potrebbe darti il coraggio di prendere una mazza per difenderti. La rabbia repressa, invece, si accumulerà. Molto probabilmente finirai per sfogarla su una persona a cui ci tieni, trattandola male o abbandonandola. Farlo può farti sentire in colpa, facendoti poi odiare te stesso. E l'odio è un'altra emozione dannosa repressa. Il comportamento autodistruttivo può anche essere conseguenza di un bisogno di attenzione, insoddisfazione generale o mancanza di motivazione per sistemare i problemi. C'è un altro motivo per il quale siamo a volte autodistruttivi. Stiamo cercando aiuto. A volte l'io inconscio comincia a causarti problemi cercando l'attenzione nella speranza che qualcuno venga a salvarti. Le persone spesso hanno problemi col cercare aiuto perché hanno paura di essere rifiutati, di essere giudicati. Lo cercano quindi in maniera più sottile. Richard O'Connor, l'autore di questo libro, una volta conobbe un ragazzo di 16 anni che aveva problemi con la marijuana. Aveva lasciato la sua scorta, la sua roba davanti a sua madre per due volte. E quando O'Connor insistette su questa cosa, il ragazzo scoppiò a piangere e disse che voleva solo una madre che si prendesse cura di lui. Voleva che la madre lo vedesse e lo rimproverasse. Come abbiamo visto, il comportamento autodistruttivo spesso è legato alle emozioni. Però non è sempre così. A volte, le persone non reagiscono alle proprie tendenze autodistruttive. Possiamo notarlo in persone molto scoraggiate. Ci sono due tipi di persone scoraggiate. Quelle che non hanno mai avuto la motivazione per correggere il proprio comportamento dannoso perché non hanno mai pensato di mettercisi di impegno. Pensano che essere mediocri è semplicemente parte dell'esistenza e non cercano di cambiarla. Poi ci sono quelli che hanno provato troppo spesso per correggersi. Hanno deluso se stessi o gli altri così tante volte che hanno smesso di provarci. Mancano anche loro della motivazione necessaria per l'automiglioramento ma per altri motivi. Se fai parte della seconda categoria di persone scoraggiate prova a fissare delle aspettative più realistiche per te stesso. Non pensare che smetterai di fumare all'improvviso. In questo modo sarai solo dell'uso da te stesso se non ci riuscirai. Stabilisci invece degli obiettivi realizzabili come fumare di meno intanto per iniziare. Le dipendenze e le ricadute sono altre due forme di comportamento autodistruttivo. Quanti di voi hanno pensato sì ho finalmente smesso di fumare per poi ritrovarsi a fumare di nuovo dopo due settimane? La dipendenza e la ricaduta è un altro tipo di comportamento autodistruttivo. Spesso funzionano in questo modo. La ricaduta ti fa fallire quando stai arrivando al traguardo. Essa è un risultato delle cattive abitudini radicate nel tuo cervello. Un semplice errore può farti tornare al modello di comportamento che si aspetta. Che si aspetta il nostro cervello. Immagina un alcolista che è stato sobrio per un anno. Per sbaglio prende il bicchiere sbagliato ad una festa fa un sorso e poi arriva ad ubriacarsi. Questa persona si sentirà molto in colpa e potrebbe anche odiare se stessa. Potrebbe chiudersi in casa evitare il lavoro e diventare autodistruttiva. Un modo per evitare questo modello di comportamento è associare la tua ricaduta a qualcosa di negativo come la paura o il disgusto. Quando quell'ex alcolista ha bevuto per sbaglio il vino avrebbe potuto sputtarlo istintivamente. La cosa che va fatta è quella di ricostruire i modelli del nostro cervello che ci evitano di ricadere. Le dipendenze sono autodistruttive perché indicano qualcosa che è fuori dal nostro controllo. potrebbe trattarsi di sostanze come una droga o un'abitudine come l'azzardo. Quando ottieni qualcosa che desideri il tuo cervello rilascia dopamina che te ne fa volere di più. Possiamo osservare questa reazione ormonale negli animali da laboratorio quando sono soggetti a piccoli traumi per evitare di ricevere un trauma più grande tenderanno a cercare piccoli traumi anche quando la minaccia del grande trauma scompare. E' per questo che il programma in 12 passi degli alcolisti anonimi per gestire le dipendenze è così efficace. La prima cosa che devi fare è ammettere di avere un problema per poi guardare te stesso come un estraneo valutare il problema e cominciare ad affrontarlo. come possiamo quindi evitare le cattive abitudini? Il primo passo è la consapevolezza consapevolezza significa guardare te stesso in maniera calma oggettiva ed empatica significa fare un passo indietro rispetto alle tue abitudini così da non metterle in pratica immediatamente puoi lavorare sulla consapevolezza con la meditazione la meditazione consapevole riguarda la consapevolezza non l'illuminazione o lo zen è un chiederti di ascoltare le tue emozioni senza giudicarti trova un luogo comodo e tranquillo nel quale puoi meditare ogni giorno allo stesso orario per circa 30 minuti chiudi gli occhi concentrati sul tuo respiro e fai fluire i tuoi pensieri non preoccuparti di farlo in maniera precisa se trovi difficile la meditazione cerca di osservare i tuoi pensieri e le tue emozioni tenendo un diario per esempio alla fine il tuo obiettivo è quello di migliorare il tuo autocontrollo e aumentare la tua forza di volontà se lo fai in maniera continuativa l'autocontrollo diventerà parte del tuo io automatico non solo del tuo io conscio reimposterai il tuo cervello questo è ciò a cui gli alcolisti anonimi si riferiscono quando dicono fake it till you make fingi fin quando non lo fai eliminare una dipendenza è difficile all'inizio ma gradualmente questo richiederà meno sforzo dato che diventerai più diventerà più automatico fake it till you make fingi fin quando non lo fai si applica anche ad altre cose anche far finta di essere gentile ti renderà più gentile ti sentirai bene con te stesso e continuerai a fare cose in maniera gentile fino a quando non diventerà un'abitudine poi ci sono anche altri modi per aumentare la tua forza di volontà mangia in maniera più sana così il tuo cervello funzionerà meglio continua sempre ad educarti e punisciti in maniera leggera se è necessario se riesci ad associare uno stimolo negativo alla tua tentazione comincerai a sentirlo sempre meno dopo aver raggiunto più consapevolezza e autocontrollo ti sarà d'aiuto anche costruire relazioni più forti con persone positive essere circondato da altre persone sane con modi di pensare sani significa dare la possibilità al tuo autocontrollo di spianare la strada ad abitudini positive automatiche in conclusione ricorda che ti fai sottomettere dalle tue cattive abitudini quando il tuo io automatico ripete un comportamento senza una tua scelta conscia verso ciò che è meglio per te con la consapevolezza e la dedizione puoi reimpostare il tuo cervello così da poter sostituire le cattive abitudini con delle buone abitudini medita osservati e fingi finquanto non lo fai fake it till you make conosci te stesso il primo passo per distruggere le cattive abitudini è guardare te stesso come uno sconosciuto e riconoscere il tuo comportamento autodistruttivo medita e presta attenzione ai tuoi pensieri e alle tue emozioni più le capisci più facile sarà il tuo percorso sono andrei se ti è piaciuta questa puntata e pensi di aver trovato degli spunti da applicare nella tua vita condividi e lascia un commento come sempre scegli di rendere la tua vita straordinaria vivi ogni giorno pienamente e fai la tua differenza oggi